E dopo tutto quello che ci siamo detti fino ad ora e quello che è successo in questo campionato non potevo non fare questo video Vi vado a fare una domanda secca, deciderete poi voi da che parte stare Naturalmente parliamo dell'attualità perché dei pensieri ne parleremo poi più avanti Non sta succedendo niente per quanto riguarda il calcio italiano giocato, nemmeno per quanto riguarda il calcio mercato E allora andiamo a parlare della nazionale e vi faccio una domanda secca Benvenuti a tutti in questo nuovo video se ancora non sei iscritto al canale Prima di iscriverti come sempre ti invito a fare un giro nei contenuti precedenti Se ti piace o non lo hai iscriviti e attiva la campanellina perché è molto importante Solo così ti arriveranno le notifiche per quanto riguarda i nuovi futuri che porterò sul canale Commenta col tuo pensiero solo dopo aver ascoltato il video fino alla fine Naturalmente metti un like perché ne vale davvero la pena E partiamo con quello che voglio effettivamente chiedervi Perché stasera come tutti sappiamo giocherà la Spagna contro l'Italia per la semifinale di National League Non so se voi la guarderete, io non so sinceramente ancora se la guarderò Molto probabilmente sì, anche se sapete benissimo che io non tifo la nazionale Però mi piace il calcio quindi molto probabilmente la guarderò Ci sono dei precedenti per quanto riguarda le due squadre Hanno già giocato contro svariate volte E i precedenti sono 12 vittorie per la Spagna 11 vittorie per l'Italia Assolutamente io pensavo avessimo vinto molto molto di meno contro la Spagna E ben 16 pareggi Con la partita di questa sera la domanda che vi voglio fare Ce la farà l'Italia a battere la Spagna e quindi andare in finale Voi soprattutto tiferete o guferete? Perché questa è la domanda che a tutti i giuventini continuano a fare Ma voi non tifate l'Italia quindi non siete italiani Siete di un altro mondo perché siete antisportivi Perché dovete tifare la nazionale Voi invece ditemi la vostra qua sotto se la tiferete oppure la guferete Io nel mio caso già ormai sapete bene come la penso Anche perché questa nazionale con noi i giuventini C'ha ben poco da fare Comunque i precedenti non sono male Perché 12 vittorie per la Spagna e 11 per l'Italia Potrebbero diventare 12 e 12 Come diceva qualcuno in un'intercettazione telefonica Pensa a chi sta dietro e speriamo che l'arbitro questa sera Non pensi a chi sia dietro ma che ci facciano vedere una partita leale Tanto a noi non ci frega Almeno a me non mi interessa niente sia che vincono sia che perdono Però mi interessava farvi questa domanda Perché dato che nel video precedente dove ho parlato delle voci Dove dicono che praticamente Antonio Conte abbia dato la disponibilità Ad Agnelli per quanto riguarda un possibile ritorno nella panchina della Juventus Ripeto indiscrezioni quindi non c'è niente come vi dico sempre Non c'è niente di certo sono indiscrezioni Però sappiamo che Antonio Conte ha dichiarato che Tornerebbe volentieri anche in Italia Se il progetto che gli mettono a disposizione lo convince Quindi penso che il progetto della Juventus sia sempre un bel progetto E ci possa essere la possibilità che queste parole siano fondate Che quindi ci possa essere stata veramente da parte di Conte Una disponibilità a tornare Vi siete veramente spaccati in due tronconi Chi innamorato di Antonio Conte gli perdona L'aver abbandonato la Juventus il giorno prima del ritiro Chi invece assolutamente non ne vuole sentire parlare In questo caso voglio vedere se vi spaccherete di nuovo in due tronconi Chi segue la nazionale perché comunque è italiano E la nazionale prima di tutto come ha detto Lapo Elkan Scatenando non pochi dissensi da parte dei tifosi juventini nei social Quando disse l'Inter prima di tutto sono italiano Quindi in finale di Champions League lui tifava per l'Inter E questa sera vediamo se ci sarà qualcun altro che la pensa anche così Dimmi la tua qui sotto nei commenti Fammi sapere il tuo pensiero naturalmente condividi questo video Fai questa domanda a tutti i tuoi amici Condividi sui social perché è molto importante Il canale sta crescendo molto Io vi ringrazio di cuore soprattutto Ringrazio tutti coloro che continuano a condividere i miei video E mi danno un grosso aiuto Io vi saluto come sempre Vi ricordo di commentare qua sotto come ho fatto prima E mettere un bel like Non dimenticatelo Ciao Voi io Voi io